Ciao a tutti! Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video infrasettimanale. Questa settimana vorremmo parlarvi di come viviamo con 700 euro al mese in due viaggiando, quindi 350 euro a testa di spesa mensile. Abbiamo fatto un piccolo calcolo prima di partire per poter riuscire a viaggiare il più possibile. Abbiamo un po' di soldini da parte, abbiamo risparmiato un po' di soldini in questi anni, quindi per adesso ci stiamo mantenendo grazie a quelli. E per poter far durare il più possibile il nostro viaggio prima di riuscire a trovare un'entrata sufficiente per poter continuare. E dillo, in realtà siamo ricchissimi, non sappiamo dove mettere i nostri soldi, siamo figli di papà. Non è vero. Per poter continuare il più possibile il nostro viaggio cercando una soluzione per mantenerci e continuare a lungo il nostro viaggio, abbiamo, ci siamo impostati di spendere 700 euro al mese in in due e non di più. Come? 400 euro sono soltanto per il gasolio, poi 300 euro sono per la spesa. Cioè, presa poco è quello il... La spesa più grande che abbiamo, chiaramente, è il gasolio. Quindi, in base ai soldi spesi nel gasolio, dobbiamo un po' gestirci il nostro viaggio. Perché ci siamo resi conto, appunto, che, come qua il gasolio attualmente è abbastanza caro ancora, comunque non è molto meno caro dell'Italia. Siamo intorno a 1 euro e 20 al litro. Quindi è una spesa importante. Quando saremo in posti dove il gasolio sarà più economico, avremo la possibilità di viaggiare un po' più liberamente. Il gasolio è anche la vita, perché comunque... Anche la vita, chiaramente. Essendo vicini all'Europa, i prezzi non si scostano più di tanto da quelli europei. Poi, ovviamente, in questi 700 euro mensili non sono compresi, magari, le spese aggiuntive, come può essere l'assicurazione o imprevisti, come, per esempio, la multa in Croazia, o il vaccino a Ondina, per esempio. Sono tutte cose extra. Quei 700 euro sono destinati solo ed esclusivamente alla vita quotidiana, quindi al gasolio e alla spesa. Abbiamo deciso che, se vediamo che stiamo sforando troppo, che ci stiamo avvicinando troppo in fretta, questi 700 euro, di fermarci e aspettare il mese successivo, quindi di non mettere... Magari anziché di spostarci ogni due giorni. Esatto. Di fermarci più a lungo e risparmiare per poter non superare la soglia che ci siamo imposti mensili. Abbiamo deciso di fare questo video perché? Perché molte persone ci chiedono come è possibile... come si può viaggiare in questo modo, senza avere... cioè, quali sono le entrate. Noi, al momento, entrate non ne abbiamo. Certo, stiamo iniziando da poco a fare video su YouTube, inizieremo a collaborare con altre persone, però momentaneamente i soldi... cioè, ci stiamo finanziando noi stessi il nostro viaggio. Per adesso? Sì, per adesso è così, bisogna dire le cose come stanno. Non siamo ricchi, quindi questo viaggio è possibile, è stato possibile grazie al nostro lavoro degli anni passati. Esatto. Quindi speriamo che possa essere magari di spunto per qualcuno che pensa che sia impossibile con una certa cifra economica, magari che ci voglia un... almeno... non so... magari ci sono certe persone che pensano se non ho quel tanto non posso farlo. Invece basta organizzarsi in piccole cose, dandosi dei limiti, come può essere non più di quel tanto nel gasolio, non certo andare sempre al ristorante, se si ha un margine mensile che magari non si è speso... giusto? Si si può concedere un'uscita a mangiare qualcosa fuori, al ristorante o prendere qualcosa. Oppure tenere lì per il mese successivo, così che magari al mese successivo se hai la possibilità di acquistare un qualcosa di diverso, cioè di toglierlo sfizio. Però è una vita abbastanza semplice, senza grandi pretese e comunque bisogna trovare dei compromessi quando si viaggia. Il nostro compromesso è quello di utilizzare i nostri risparmi per poter viaggiare in questo modo abbastanza semplice. Per adesso riusciremo a continuare per un po' di tempo il nostro viaggio, poi chiaramente stiamo cercando di poter trovare una soluzione alternativa per poterlo continuare a tempo indeterminato il nostro viaggio. Quindi questa settimana abbiamo deciso di fare un video breve... conciso, non circongiso. L'appuntamento è per sabato, non perdetevi il video. Questo sabato è un video importante. Eh si, parleremo del nostro ingresso se... non spoileriamo niente. A sabato!